Il dipolo elettrico tra due piastre parallele dove il campo è uniforme cercherà di raddrizzarsi poi se non c'ha un modo per smorzare energia oscillerà, ma cerca di raddrizzarsi analogamente un dipolo magnetico c'è una spira percorso la corrente e cerca di raddrizzarsi ma il centro di massa non fa nulla invece se il campo non è uniforme ci sarà una forza netta si vede molto facilmente nel caso del dipolo questo è una carica che crea un campo elettrico non uniforme vedete come le linee di campo stanno allontanandosi l'uno dall'altro quindi qua vicino il campo è più forte e più lontano il campo è più debole quindi se voi mettete un dipolo qua per esempio se la mettete in questa orientazione qui cosa fa il dipolo? vedete che la carica negativa è più vicina all'assorgente mentre la carica positiva del dipolo è più lontana quindi c'è una forza di attrazione più forte su questa parte negativa della parte della pulsione sull'estremo positivo quindi complessivamente c'è una forza netta che lo fa avvicinare lo farà avvicinare alla carica cioè un dipolo orientato così cerca di avvicinarsi alla zona del campo dove il campo è più intenso invece se girate il dipolo con la carica positiva qua e la carica negativa la positiva è più vicina e la negativa è più lontana la positiva è respinta e la negativa è invece attratta e vedete che quando il dipolo è messo così verrà respinto quindi il dipolo sarà attratto o respinto a seconda di come è girato se il campo è uniforme non c'è una forza netta di attrazione e repulsione c'è solo un momento torcente che vuole in qualche modo farlo raddrizzare ma se il campo non è uniforme il dipolo sarà respinto o attratto a seconda di come è orientato il dipolo quando è orientato così il dipolo è attratto quando è orientato così il dipolo vedete cos'è il dipolo nel caso elettrico va dalla negativa alla positiva quindi la freccia blu rappresenta la direzione del momento del dipolo elettrico quando il dipolo è orientato così verrà attratta quando è orientato così viene respinta allora, interessante questo e avviene la stessa cosa molto analoga nel settore magnetico immaginate che so il polo nord di un magneto il polo sud è molto lontano, è più giù quindi lì il campo magnetico fanno così cosa che potete fare con le bussoline e mi è dispiaciuto che moltissimi di voi non sono venuti qua a giocare con le bussoline pochi l'hanno fatto dovete visualizzare che la bussolinea è orientata in questo modo quindi le linee di campo eccetera 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 allora mettete in questo campo non omogeneo non è omogeneo, vedete che le linee di campo qua sono più vicine e qua si sparpagliano quindi qua il campo è forte e qua il campo è debole mettete un momento di dipolo magnetico cos'è un momento di dipolo magnetico? dovete pensare a una piccola spira percorsa da corrente quindi mettiamo l'aspira in questo modo dove la corrente entra qui questa è una spira se volete circolare, rettangolare, ha molta importanza e la corrente sta entrando di qua e uscendo di qua quindi com'è l'orientazione della freccia M che rappresenta il momento di dipolo magnetico? va con la mano destra quindi se la corrente entra di qua e sbuca di qua la freccia blu è orientata in quella direzione cosa fa l'aspira? siccome nell'aspira ci sono correnti che girano sentono la forza di Lorentz sentono la forza di Lorentz magnetica come qua sentiva la forza di Lorentz elettrica una carica in presenza di un campo elettrico sentono la forza qua una corrente in presenza di un campo magnetico sentono la forza allora qual'è la forza? su questo estremo la corrente sta entrando la corrente entra il campo magnetico è così la forza che questo lato qua dell'aspira sente è per di là la forza è perpendicolare al campo magnetico è punta per di qua qua invece la corrente sta rendendo verso di voi il campo magnetico è così e la forza è così risultato quella spira sente una forza il centro di massa di questa spira col cavolo sta fermo accelera perchè c'è una forza esterna netta quando il campo era omogeneo non c'era una forza esterna netta c'era un momento torcente ma la forza esterna era zero quindi il centro di massa non accelerava ma qua la forza netta c'è perchè il risultato di queste due è una freccia verso il basso quindi con il dipolo magnetico messo così questo dipolo magnetico è attratto invece se la corrente sta girando verso posto in modo che il momento del dipolo magnetico punta verso il basso qua avete la corrente che esce qua la corrente esce il campo magnetico è così vedete che la forza è cos'ha ma convincetevi che qua è attrattivo qua è repulsivo è analogo no? quando il momento del dipolo è nel il momento del dipolo cerca sempre di quando è nella stessa direzione del campo cerchiamo di dirlo in modo giusto quando il momento del dipolo blu è nella direzione del campo il momento del dipolo è attratto quando il momento del dipolo è opposto al campo il momento del dipolo è respinto quando il momento del dipolo è nella direzione del campo il momento del dipolo è attratto quando il momento del dipolo è nella direzione opposta al campo il momento del dipolo è respinto vedetevi le analogie tra le due d'accordo? d'accordo? allora potete cominciare a pensare un sacco di cose per esempio se questa è una spira e la corrente sta entrando di qua e uscendo di qua lui crea un campo magnetico che è molto simile a queste cose qua avete delle linee di campo magnetico che sono così avete quello dell'asse no? vi ricordate questo disegno? come sono messe così il linee di campo no? cosa che potete convincerevi se venite qua con una bella batteria cosa che ho cercato di fare ma non si vede molto bene e fate una corrente dell'aspira e potete sondare come è fatto il campo con una bussola ed è fatto proprio così allora se voi prendete questa spira e crea un campo magnetico così e c'è un'altra spira qua e questa spira ha una corrente che entra ed esce queste due spire cosa fanno? si attraggono o si respingono? quello che ho disegnato qui queste linee sono il campo creato da questa spira chiamiamo questa spira 1 cosa fa l'aspira A2? è attratto o è respinta? cioè qual è il momento di pollo di questo? strafazzito così quindi è una situazione di questo tipo fate la stessa analisi no? la corrente di qua sta entrando il campo magnetico è così quindi la forza è così anche qua la forza sarà così è attratto questo è identico nella stessa situazione se invece avete una spira che so che è la faccio qua giù bella ci siamo capiti no? se adesso giro la corrente qua qua la corrente sta uscendo e qua sta entrando questa spira verrà attratta questa vi deve sembrare molto familiare ragazzi perché un polo nord di una calamita com'è il campo? di nuovo se avevate giocato con le bussole era così no? quindi questo questo e questo sono abbastanza simili oserei dire identici non sono proprio identici perché ovviamente dipende dalla dimensione dell'aspira però c'è la stessa tendenza però c'è la stessa tendenza se voi esplorate lo spazio attorno ad una calamita o attorno ad una spira con la corrente che gira così vedrete che le bussole hanno questa stessa orientazione questa qua per esempio ritorno al disegno di prima con la corrente che entra e la corrente qua che esce d'accordo? non è equivalente? due spire che hanno le correnti che girano così sono equivalenti a due magneti così e sapete bene probabilmente dalla prima elementare che i magneti così si attraerebbero giusto? quindi con la corrente girata quindi con la freccia blu messa così e con la corrente qua che entra e qua che esce questa è equivalente a mettere in faccia quindi in nord e in nord si le spingono e questo è il famoso giochetto con queste qua qua stanno attraendo qua stanno respingendo quindi dipende da come sono orientate se è orientata così c'è una attrazione se è orientata nello devo girare c'è una repulsione e poi mettiamo la massa di questo ok? d'accordo? vedete? vedi come ha messo il campo? però ovviamente se sono troppo vicini la forza vince l'attrito sto giocando sull'attrito qua che lui stia fermo ma gli piace questa orientazione? non gli piace questa e l'attrito lo ferma in una posizione questo ha aumentato la massa e quindi sta fermo e ovviamente se avevano la stessa massa allora era un balletto reciproco no? vedete come si sono messi? ah che bello riesco a fare comunicazioni no? mannaggia fermati asmento la massa sposto qua e lui si accorge no? trasmissione delle informazioni mamma butta la pasta ma lei l'SMS più giusto più lo può ricevere? ti mondo? oppure è scoppiata la terza guerra mondiale? ma... certo che... shhh un uomo come ho detto l'altro giorno io non credo nella pena di morte però spero che il ragazzo che ha ucciso la sua fidanzata in quel modo così orribile non esca mai 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 più dall'opinione e se esce e un genitore o il fratello o la mamma lo trovano sul barco e lo ammazzano a loro do la medaglia insomma... no... no... d'Italia no... ma do a loro una condada di qualche anno di galera fai a due allora... eh? eh? fai ridere anche a me non lo senti qua? cosa ha detto? olio no... allora... ehm... una cosa semplice poi giovedì abbiamo tante cose da fare vorrei accennare brevemente a questa cosa qua allora... non lo voglio più toccare avrei dovuto farvelo vedere prima un pre un pre-esperimento quello è un pezzo di rame e il pre-esperimento sarebbe stato quello di far vedere che il rame non è attratto da un magnete non lo voglio fare adesso perché se lo tocco se mi avvicino io avvicinandomi avvicinandomi questa è la sfida vista un po' prospetticamente quindi faccio questa la parte vicino a voi no... sta facendo così se io metto questo magnete su un carello e lo avvicino nell'avvicinarmi il campo magnetico visto dai punti della superficie immaginate tutte le possibili superfici che hanno il pezzo di rame come contorno per esempio pensate alla superficie tesa come la membrana di un taburo quello che ho ombreggiato allora cosa sapete? cosa sapete? sapete per esempio la legge della circuitazione del campo silenzio per cortesia scritta in forma integrale o in forma in forma differenziale questa è la legge di Faraday, Neumann, Lenz al segno meno è dovuto a Lenzio, Neumann Faraday aveva notato che se variate il campo magnetico se variate il flusso del campo magnetico se variate il flusso del campo magnetico ci sarà una circuitazione del campo elettrico e siccome il rame ha portatori di carica non appena nella curva C non appena avete un campo elettrico i portatori di carica si metteranno in moto silenzio per cortesia allora è evidente che quando io avvicino il magnete all'aspira il flusso del campo magnetico attraverso questa superficie o qualsiasi dovete veramente ricordare qualsiasi superficie per fissare l'idea è molto più facile pensare a questa quarta tesa come un taburo matematicamente qualsiasi superficie la deve allora voi dovete pensare alla superficie e ovviamente questa superficie è la superficie che ha C come contorno allora c'è un errore di stampa qua ovviamente no? cos'è questo? non è una A perchè il differenziale su cui c'è qua deve avere dimensioni di una lunghezza questa non è una circuitazione mi raccomando gli errori di stampa ci sono allora la circuitazione implica che voi giriate sulla curva in un certo modo allora scegliamo l'orientazione di questa curva a caso lancio una monettina supponete che la monettina venga fuori che io orienti questa curva in questo modo attenzione questo rappresenta uno spostamento lungo la curva rappresenta questo signore qua quindi io sto spostandomi così d'accordo? quindi visto di lato se questa è la mia sfida io sto girando come spostamento sto entrando qui come spostamento sto entrando qui e come spostamento sto uscendo là e qua c'è il magneto il magneto ovviamente ha le sue linee di campo in particolare già queste per esempio quindi dovete immaginare le linee di campo che stanno bucando questa superficie o qualsiasi superficie che abbia la curva C quindi il campo magnetico è per esempio una freccia in questa direzione magari in caso di cambiare colore questo è il campo magnetico questo è il campo magnetico non pretendo di disegnare i moduli sto solo catturando la direzione d'accordo? allora se io oriento la superficie in questo modo con la corrente che sta uscendo con la corrente con lo spostamento che sta facendo così come sono messi i vettori di area? di questa membrana tesa come un taburo gli elementi di area se questo è un elemento di area eccola qua eccola qua l'elemento di area come è orientato? allora è orientato in questa direzione questo è il vettore A quindi chiamiamo questo delta A questo è il dA ok? io ho orientato la curva a caso ho messo una monetina è venuto fuori così eh? è venuto fuori così quindi il flusso del campo magnetico in questo istante col carrello in questa posizione è un numero positivo o negativo? questa roba qua sotto è un numero positivo o negativo? qualcuno? lei? è negativo perché è negativo? questo e questo hanno direzioni opposte lo vedete? quindi questo è un valore negativo faccio il grafico nell'istante che so t uguale a 0 questo è il valore questo qua la scrivo come il flusso del campo magnetico nell'istante t poi dovrò fare la derivata su quel tempo quindi questo rappresenta il flusso del campo magnetico l'istante t uguale a 0 è negativo è negativo d'accordo? adesso avvicino il carrello oppure avvicino l'aspira stessa cosa avvicino il carrello quando il carrello è più vicino come faccio il disegno? la faccio qua quindi il carrello adesso è qui è evidente che le linee di campo magnetico sono più numerose il flusso è aumentato sono più vicino al campo magnetico in valore assoluto è aumentato d'accordo? quindi è un numero cosa? sempre negativo ma è un numero ancora più negativo siete d'accordo? è ancora più negativo perché il valore di B in questo elemento di aria qua l'elemento di aria è così B è diventato ancora più grande rispetto a quello che era è ancora più negativo quindi se inizialmente aveva un valore negativo in un istante successivo questo è il tempo è ancora più negativo il flusso in valore assoluto è aumentato ma come segno algebrico è più negativo siete d'accordo? si è avvicinato il campo è più grande comunque il vettore aria è in direzione opposta a B quindi ha un valore negativo è diventato più negativo quindi se io congiungo questi due valori questo è il valore di fi nell'istante nel primo istante questo chiamiamo, non lo so t uguale a zero o facciamo questo t1 e t2 quindi questo è l'asse dei tempi t1 e t2 ok? questo è è lo stesso disegno eh non dovete questo è t1 questo è t2 questo è il valore di fi di B nell'istante t inizialmente è un valore negativo e in un altro istante è ancora più negativo quindi congiungete questi due valori con un segmento tanto per guidare l'occhio per guidare l'occhio quindi quella là è un tentativo di disegnare l'andamento di fi di B in funzione del tempo è una funzione decrescente passare del tempo avvicinandovi il flusso sta questa cosa il valore assoluto sta aumentando d'accordo? adesso questo è il valore di fi ma la legge di Lenz mi dice che devo fare la circuitazione di E è uguale a meno la derivata di fi in questa situazione la derivata di fi di B è negativa quindi la legge di Lenz mi dice se questo se questo la derivata è negativa allora la circuitazione è positiva è positiva perché la circuitazione è meno la derivata di fi quindi se la derivata di fi è negativa la circuitazione è positiva cosa vuol dire la circuitazione positiva? Diamo un'occhiata in questo modo dove mettiamo l'occhio voglio fare un disegno dall'alto facciamo l'occhio che so di qua questo è l'occhio sto guardando quindi questa è la spira facciamo la spira circolare intanto non cambia niente spira circolare ecco la spira con il suo spessore è un pezzo di rame ok? questa è questa vista qua quindi io disegno delle x a rappresentare il campo magnetico che sta entrando nella lavagna nell'istante T1 ho un certo numero di x quindi io rappresento così un certo valore di campo magnetico nell'istante T1 ok? c'è un certo campo magnetico non ho nessuna pretesa di disegnare in maniera fedele a com'è perchè disegnare tutti equidistanti è già forse un errore perché questo non è un campo uniforme si apre c'è un più x qua l'importante voi cercate di immaginare che nell'istante T1 guardando in questa direzione voi vedete il campo che entra d'accordo? come ero orientato l'elemento di aria? l'elemento di aria cos'era? ero uscente perchè l'elemento di aria viene verso il vostro occhio il campo entra d'accordo? quindi l'orientazione che io ho dato a questa curva è per di qua questa è l'orientazione questo è lo spostamento delta r sto spostandomi così siete d'accordo? sto spostandomi così adesso dire che la circuitazione è maggiore di 0 vuol dire che nel mio spostarmi lungo la curva da qua a qua da qua a qua da qua a qua da qua a qua eccetera mi sto spostando in senso antiorario in questa vista la circuitazione maggiore di 0 vuol dire che in media io ho un campo elettrico che è nella direzione in cui io mi muovo se questo è maggiore di 0 vuol dire che ho un campo elettrico che è in questa direzione devo avere un campo elettrico in questa direzione siete d'accordo o no? solo così ho la circuitazione maggiore di 0 cioè che la e il campo elettrico che è qui deve avere la stessa direzione dello spostamento in modo da avere un valore maggiore di 0 eh quindi nell'avere un flusso che diminuisce nel tempo che diventa il valore assoluto più grande ma ha un flusso che diminuisce nel tempo ho un campo elettrico messo così messo così allora se nel rame c'è un portatore di carica ignorate l'esistenza degli elettroni pensate come facevano la gente prima della scoperta dell'elettrone la corrente convenzionale in che direzione gira? gira nella direzione del campo elettrico per il campo elettrico fa fluire una corrente e la corrente sta girando con un altro colore che colore posso usare? il giallo la corrente sta girando in questo verso questa si chiama la corrente indotta è una corrente che nasce dalla legge di Lenz perché la corrente gira così? la corrente gira così perché il campo elettrico punta in quella direzione perché punta in questa direzione? perché punta nella direzione lungo la quale mi sto calcolando la circuitazione ma perché punta nella stessa direzione? perché la circuitazione è positiva ma perché è positiva? perché il flusso sta diminuendo nel tempo e c'è questo segno meno quindi con la corrente che gira così con la corrente che gira così quindi eccola qua qua ho la corrente che sta girando sta venendo vedete? leggere mano destra la corrente sta girando in questo verso e quindi quando io disegnerò questa spira ho la corrente che sta entrando qui la corrente indotta entra qui ed esce qui la corrente indotta sta girando così cioè sta girando così e quindi qual è il momento magnetico di questa spira? è un momento magnetico indotto quella corrente gialla non c'è perché c'è una batteria c'è per la Leslie Farley quindi qual è il momento magnetico indotto da quella corrente indotta? la disegno magari con la freccia gialla e il mio pollice è così questo è il nord della batteria questo è il nord della batteria questo è il nord della batteria della... della calamita della calamita Mannaggia, la propria stanchezza non mi veniva questo è il nord della calamita questo è il sud della calamita ma con la corrente indotta che si comporta così Quindi questa spira come si comporta come una calamita? Dov'è il polo nord? Cioè questo è equivalente a... Questa è la calamitona che è questa qua Questa è la calamita equivalente alla spira Questa è la calamita indotta Quindi cosa succede? Nord e nord si amano o si respingono? Si respingono! Quindi io nell'avvicinarmi quella spira scapperà via Pensate però al contrario Supponete che la spira inizialmente è così E l'allontanate Cosa succede? Se prima è vicina poi l'allontanate Cosa succede? Allora facciamolo rapidamente La facciamo qua così il disegno è tale e quale Questa è la spira Questa è come abbiamo detto la calamita Questa è la spira Poi la spira io allontano la calamita Ok? Allontano la calamita Quindi questo è l'istante 1 E questo è l'istante 2 Di nuovo suppongo di aver usato la stessa orientazione Della superficie tesa come la membrana di un tamburo Ok? Quindi questo è l'elemento di area E' così D'accordo? Allora qua il campo magnetico intenso Che colore è usato? Bianco Qua è intenso Qua si sta indebolendo D'accordo? Il flusso qui è un valore molto negativo Qui il flusso è meno negativo Ma è sempre negativo Perché il vettore del campo magnetico Dov'è il rosso? Eccolo qua Non è cambiato niente Questo è il vettore B Qua è un campo che è più piccolo Qua è un campo più forte Perché la magnetica è vicina Qua il campo si sta indebolendo D'accordo? Ma vedete di nuovo che B è opposto ad A Perché io ho scelto a caso Di orientare la curva in quel modo Quindi qual'è il grafico del flusso e del tempo? Nell'istante T1 Nell'istante T2 Nell'istante T1 Il flusso è negativo Ed è un valore grande Molto negativo voglio dire Nell'istante T2 Il flusso in valore assoluto è diminuito Ma è sempre negativo però E lo trovo qua La derivata di Fili è maggiore di 0 Il flusso è negativo Ma sta diventando meno negativo Cioè il flusso sta aumentando Giusto? Da un valore molto negativo Diventa meno negativo Il flusso aumenta Il flusso aumenta Quindi cosa succede? Col flusso che aumenta Cosa mi dice la legge di Faraday-Lens? Mi dice che questa volta Dove posso disegnare? Di nuovo la stessa vista Qua ho l'occhio D'accordo? La stessa vista Questa è la mia spira Aria O il numero di x Erano tante Erano tante E stanno diminuendo nel tempo Ma questo è l'elemento di aria E io sto spostandomi Questi sono i delta r Questi sono i delta r Questi sono i delta r I spostamenti Quindi io ho orientato la curva In questo modo Ma la circuitazione adesso è Mi sta girando la testa Fuori di tirarmi Adesso la circuitazione è negativa Perchè il flusso del campo magnetico Adesso sta salendo Nell'indietreggiare la bussola Nell'indietreggiare la magnetica Il flusso sta aumentando Aumentando nel senso algebrico del termine Era molto negativo In valore assoluto era grande il flusso Ma era negativo Poi il flusso sta diventando meno negativo Il valore assoluto è più piccolo Ma qual è la derivata del flusso? La derivata del flusso è positiva Quindi il flusso sta aumentando Da molto negativo a meno negativo D'accordo? Da meno 100 a meno 10 E' aumentato il flusso Il valore assoluto chiaramente è diminuito 10 è più piccolo di 100 Ma con il flusso che aumenta La circuitazione è negativa Questo vuol dire che se io mi sposto Lungo la curva così E vado a calcolare Per ogni spostamento Il prodotto scalare Con il campo elettrico Trovo un valore negativo Quindi io ho un campo elettrico Che è opposto alla direzione Dello spostamento Il campo elettrico è così E' un campo irrotazionale Certo che è irrotazionale Vedete che ha una circuitazione Verso zero Ma il campo elettrico è opposto ai miei spostamenti Quindi nel rame I portatori di carica amano spostarsi Se qualcuno gli da un campo elettrico E quale sarà il verso della corrente indotta? La corrente indotta La corrente convenzionale è così Quindi in questa vista qua Io ho Questa è la corrente In questa vista Ok? Quindi mi sta girando così Quindi qua Lui esce E qua Entra Giusto? Sta facendo Entra di qua Esce di là Siete d'accordo? Allora Questa spira qua Ha una corrente indotta E questa spira E' equivalente Ad un momento di dipolo magnetico Indotto C'è un momento di dipolo magnetico indotto Quella spira ha una corrente indotta Quindi si comporta come un movimento di dipolo magnetico Indotto, certo C'è fin canto che qualcuno gioca con la cavità Indietreggiandolo Allora Questo momento di dipolo magnetico E' così Questa è la direzione N Quindi questa spira si comporta Come se fosse un polo Nord E un polo Sud Quindi cosa fa la spira? E' attratta Quindi quando io mi avvicino alla spira La spira cerca di allontanarsi Quando mi indietreggio la spira cerca di seguirmi Quando mi avvicino la spira scappa via Quando mi tiro indietro la spira cerca di seguirmi Siccome è un effetto debole Io sfrutterò la risonanza Poi adesso vediamo quanto tempo ho Dubito avrei tempo di fare il discorso della risonanza Credo deve avere 10-12 minuti Quindi facciamo vedere poi magari un pozzo Allora prima cosa C'è una penna qua La penna più o meno ha la stessa dimensione del magnetico Quindi io sposterò la penna attraverso la spira Per convincermi che non è l'effetto dell'aria Cioè non è che io sto facendo Se io soffio quello si muove Con la porta aperta l'ondeggiava Quindi io lo voglio spostare avanti e indietro E non dovrei a meno di qualche piccolo effetto Dovuto al vento che creo Spostare con la spira Poi metto con la calamita Che benché è una calamita forte L'effetto è piccolo Quindi vedete spero di non colpirlo Non succede niente Adesso io non so qual'è il nord e qual'è il sud Presumo Tanto anzi vi chiedo Questa è una domanda carina E' importante chi è il nord e il sud? Cioè se io giro Facciamolo rapidamente Se io giro questo E questo diventa il sud E questo diventa il nord Cosa cambia nell'esercizio? Cambia la direzione delle frecce no? Shhh Ma la conclusione com'è? Facciamolo come esercizio Queste sono le classiche domande lavorare Quindi adesso è così no? D'accordo? Quindi il flusso cos'è? Nella situazione dove io mi avvicino E quindi questo è intenso Qua ho un flusso positivo grande Qua ho un flusso positivo negativo Ma è piccolo Qua il campo magnetico è in questa direzione Ma è più piccolo di qua Perché qua mi sono avvicinato Quindi qua ho un flusso positivo Ma anche qua ho un flusso positivo Ma questo è più grande di quello In valore assoluto Quindi il mio grafico adesso è questo Perché nell'istante T1 Il flusso è positivo ma è piccolo Shhh Il flusso è positivo ma è piccolo Poi mi avvicino E il flusso diventa ancora più grande Quindi è positivo Questa è una derivata positiva Facciamo rapidamente E qua ovviamente si Ah, che c***o! Vedete? Se io lo faccio al ritmo giusto Oh, mannaggia! Ho la mano che trema e poi ho una cattiva mira perché non vedo E poi purtroppo si prende un avvitamento vedete, se lo faccio al ritmo giusto riesco a farlo avere un affetto visibile Devo però farlo al ritmo giusto quindi domani, cioè giovedì, rapidamente faremo la risonanza Di nuovo la risonanza cos'è? Io posso spostare questo voglio spostare la mia mano di 10 cm se lo faccio lentamente la massa va su e giù di 10 cm più o meno 5 diciamo un'escursione di 10 cm se lo faccio al ritmo giusto l'escursione della massa è molto più di 10 cm d'accordo? Molto di più se lo faccio troppo veloce ha una pulsazione troppo rapida la massa non è che fa granché rimane più o meno lì se io spegliesse le luci vedreste quella massa più o meno star fermo quindi io sto spostandomi di più o meno 5 cm ma ha una frequenza troppo rapida se io ora... D'accordo? Va bene ci vediamo giovedì grazie grazie grazie